La notizia di oggi, martedì 18 febbraio, subito la cronaca, è la quarta volta che viene sorpresa dal personale di sicurezza dell'ipermercato di Cesano di Senigallia dopo aver prelevato merce e essere uscita senza pagare. Si tratta di una rumena di 40 anni, già nota la polizia per avere precedenti penali per furto, controllata in varie occasioni e già denunciata pochi giorni fa per fatti analoghi. Gli agenti, dopo aver compiuto gli ulteriori accertamenti, hanno redatto gli atti di rito finalizzati ad una ulteriore denuncia. Nuovi controlli di contrasto all'immigrazione clandestina e allo sfruttamento dei lavoratori regolari da parte degli uomini del commissariato in due aziende gestite da cinesi, una di abbigliamento e una di calzature. Le maggiori violazioni sono state riscontrate dai funzionari del servizio ispezione del lavoro della direzione territoriale del lavoro di Ancona, che hanno rilevato un lavoratore in nero nella ditta adibita al confezionamento e cinque in quella adibita al tomaificio. Oltre ad elevare sanzioni amministrative, i funzionari ispettivi hanno anche sospeso l'attività del tomaificio. Spaccata all'ottica mandolini lungo i portici ercolani di Senigallia, ma i malviventi sono stati messi in fuga all'arrivo tempestivo della security e delle forze dell'ordine, allertate dal sistema di allarme. Nessun bottino, ma restano i danni provocati dalla rottura della vetrata di ingresso. Premio Raffaele Giusti ad Arcevia. I vincitori dell'edizione 2013 dei seminari estivi si esibiranno domenica 23 febbraio alle 17 al Chiostro San Francesco di Arcevia. Questo premio ci è stato conferito dai docenti del seminario estivo che si è svolto ad agosto del 2013. Loro scelgono sei musicisti, sei seminaristi, ognuno per uno strumento, cercando di mettere insieme un ensemble, un gruppo che poi può proporre un repertorio di una certa durata e che viene riproposto magari anche nei locali della zona o anche di fuori per suonare. Il gruppo che ha vinto il premio Raffaele Giusti di Arcevia dell'edizione 2013 è composto oltre che da me e da Jacopo, anche da Alessandro Bolzieri al sassofono, da Ludovico Peroni alla chitarra, Andrea Frascione al piano e Valeria Arienti alla voce. Siamo tutti molto felici e orgogliosi di aver ricevuto questo premio e di aver avuto la possibilità di esibirci domenica prossima ad Arcevia. Il premio è molto importante perché è in memoria di Raffaele Giusti, che è un pianista storico nella scena gezzistica marchigiana e Anconetana nello specifico. Infatti è stato uno dei primi pianisti ad aver portato questo genere nella nostra regione. Quindi per noi è veramente un grande piacere, un grande onore poterci esibire in un premio dedicato al suo nome e alla sua memoria. Giovedì 20 febbraio alle 21 nella sala consigliare del Palazzo Comunale di Corinaldo le molte facce dell'alcol, meccanismi della schiavitù e della morte da alcol. Un convegno istituito dall'assessorato alle politiche giovanili e sociali, in collaborazione con le consulte cittadine e le associazioni presenti sul territorio corinaldese. All'Istituto Corinaldesi di Senegallia è in atto un progetto di educazione alla conoscenza delle altre culture e delle altre realtà del nostro mondo. Mercoledì 19 presso il Teatro La Fenice di Senegallia alle 10.35 si terrà un importante incontro dal titolo Il Brasile Ieri Oggi, la figura di Don Paolo Tonucci tra testimonianze e prospettive. Ieri sera, lunedì 17 alle 21.30, su Radio Velluto, quarta puntata di Sotto a Chi Tocca, il programma che Radio Velluto propone a tutti coloro che vogliono saperne di più sui personaggi di rilievo del territorio senegalliese. Ospite della serata, Andrea Celidoni, musicista e responsabile della Scuola di Musica Musiche di Senegallia. E anche per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, vi aspetto domani. Grazie a tutti.